La bottega del pescatore Dal 2013, esperienza e professionalità al servizio del cliente, attrezzature, prodotti da accessori di qualità e adatti ad ogni esigenza, e sempre delle migliori marche. La bottega del pescatore è anche riparazione di canne da pesca e mulinelli, e vendita di esche vive. La bottega del pescatore vi aspetta in via Cacciò 88 a Portoferraio, Isola d'Elba, e adesso anche nel nuovo punto vendita, in via Roma 353 a Marina di Campo, sempre nella splendida Isola d'Elba.